La morsa del controllo è destinata a stringersi tanto sul dissenso politico che sull'informazione. Una morsa che si fonda sulla violenza ormai, l'unica protagonista della vita del paese. Con l'avvento della dittatura, tra il 1925 e il 1926, le cosiddette leggi fascistissime segneranno la fine di ogni opposizione con la chiusura dei partiti politici e di tutti gli organi di stampa antifascisti. Le rotative non sostano e il contatore ha già raggiunto la cifra di 400.000 copie, una parte delle quali viene recapitata agli abbonati della città, al loro risveglio, da una schiera di 300 ragazzi. Mussolini sa che per far crescere il consenso non basta spegnere la voce delle opposizioni. Bisogna soprattutto far nascere nuove testate rigorosamente di regime. Il giornale si utilizza come una clava, deve colpire dentro la testa fino a condizionare la formazione dell'opinione pubblica, spiega Mussolini. Non si può agire sempre a colpi di martello. A volte è necessario il cesello. Un conto è eliminare giornali di partito come l'Unità, l'Avanti, la Voce Repubblicana. Altra cosa è controllare testate storiche nazionali, come per esempio il Corriere della Sera di Milano o la Stampa di Torino, autorevoli espressioni di quegli stessi gruppi economici che avevano finanziato la marcia su Roma. Con opportuni ricatti, Mussolini riesce comunque a imporre che i direttori siano di suo gradimento. Mussolini impone che le notizie pubblicate escano ben modellate da uno stampo garantito. L'Agenzia Stefani Fondata nel 1853, l'Agenzia di Stampa è diretta ora da uno dei pochi collaboratori veramente intimi di Mussolini, l'ex amministratore del Popolo d'Italia, Maglio Morgagni. I suoi dispacci sono così aderenti al regime da rappresentare una vera e propria, come dice il Duce, arma segreta. Si fa esplicito obbligo ai direttori dei giornali di utilizzare i servizi elaborati dalla Stefani con la tassativa indicazione di non mutarne lo spirito e i contenuti. Nel 1929 l'Agenzia ha 30 succursali provinciali, 255 corrispondenti in Italia e 40 fra Europa e America. Sarà delicato compito degli uffici di redazione di porre notizie in rilievo nel loro giusto valore. Le indicazioni dell'Agenzia Stefani si fanno sempre più dettagliate. Mussolini riceve il capo del suo ufficio stampa tutte le mattine per dargli precise disposizioni da inviare all'Agenzia Stefani, ai direttori, ai caporedattori dei giornali. Gli ordini vengono scritti in multicopia con carta carbone su carta velina per poi essere inviati alle redazioni tramite un motociclista. Questi fogli sottilissimi, in gergo detti veline, saranno migliaia nell'arco del ventennio. Il libro nero del consenso al regime Bisogna trovare delle modalità meno democratiche nella somministrazione dell'informazione. Chi ha pronunciato dalle parole? Dino Alfieri? Alessandro Pavolini? Gaetano Polverelli? Erano costoro i ministri del Ministero per la Stampa e la Propaganda del Regime dal 1937 al 1944 prima che il governo Bonomi provvedesse alla sua soppressione. No, trattasi di Montimario, Varese 1943, il quale, ospite della trasmissione in onda sull'emittente La Sette, si è lasciato andare al pensiero profondo e sentito al punto che il triplete di giornalisti in studio da Milano, Parenzo e De Gregorio dopo qualche attimo di imbarazzo ma molto, molto trattenuto dinanzi a tale illustre docente non certo un facino rosso di destra ha provato con timidezza a domandare chi mai debba provvedere alla suddetta somministrazione dell'informazione e in che senso meno democratica. Il Monti di qui sopra ha spiegato che spetta al governo guidato però dalle autorità sanitarie e facendo così tornare alla mente alcune note di servizio poi dette veline che i ministri del Minculpop inviavano ai vari addetti dell'informazione per pilotare ogni tipo di notizia e cancellare quelle eventualmente negative per il regime. Montimario ha specificato tuttavia che durante quel periodo lui era incosciente essendo nato a due anni dalla fine della guerra. Riflettendo sulle parole contemporanee presumo che il periodo di incoscienza prosegua anche perché sarebbe interessante sapere dal professore senatore quale governo dovrebbe svolgere il ruolo in questione? Quello di Draghi? Quello di Conte che fu? Il suo che è trapassato remoto? E quale autorità sanitaria dovrebbe essere soprattutto e innanzitutto? L'Istituto Superiore di Sanità? L'Organizzazione Mondiale della Sanità? Le asle locali? Anche il sostantivo di gran moda somministrazione suggerisce memorie di olio di ricino con eventuale richiamo per successive dosi sempre gestite dalla stessa azienda fornitrice. Il messaggio di Monti è chiaro e forte Il senatore sostiene e ha ragione che 20 ore al giorno di programmi che si occupano di virus provocano la catastrofe ma è interessante constatare come lui medesimo vi partecipi e ne parli anche per appalesarsi così rendendo di nuovo manifesti i motivi per cui continui a ricevere interessanti salari per una illuminata carriera politica. Costellata ad esempio da questa intervista a Der Spiegel Se i governi si facessero vincolare del tutto dalle decisioni dei loro parlamenti senza mantenere un proprio spazio di manovra allora una disintegrazione dell'Europa sarebbe più probabile di una integrazione. Senza dimenticare la frase delicata sulla monotonia del posto fisso nella vita è bello cambiare detta con saggezza da chi è senatore dopo aver ricoperto i ruoli di primo ministro ministro degli esteri ad interim ministro ad interim dell'economia presidente della Bocconi membro del CDA di Fiat Auto della banca commerciale advisor della Coca-Cola commissario europeo presidente della commissione trilaterale membro del comitato direttivo di Bilderberg presidente della commissione paneuropea per la salute e lo sviluppo sostenibile varie ed eventuali una eccellente somministrazione di incarichi Allora il professor Monti ci ha scritto poco fa e dice poi pubblicheremo tutta la sua come dire rettifica insomma ho usato un'espressione infelice e impropria cioè sulle modalità meno democratiche però al di là del termine infelice dice il professor Monti il tema esiste e quindi è giusto che alla fine grazie a tutti